Possiamo dire che è ufficiale e questo torneo si aggiungerà agli altri circa 15-20 eventi che ci sono in Italia durante il prossimo 2017. Vogliamo un attimo spiegare di che tipo di torneo? Stiamo parlando di un torneo prestigioso. Sì, è un torneo, ce ne sono 140 in tutto il mondo. Nella settimana che si disputerà il torneo qui a Francavilla ce ne saranno massimo due in tutta Europa. Quindi sono cinque tornei circa ogni settimana. È un torneo con un monte premi importante che assegna soprattutto dei punti importanti per la classifica mondiale. Noi quest'anno grazie al fatto che l'ATP ha giunto una settimana al calendario tennistico e chiaramente diverso da quello solare siamo riusciti a ottenere, visto che sono 11 anni ormai che organizziamo questo tipo di eventi, a giudicarci questa settimana supplementare. C'erano altre regioni che aspiravano a prendere questa data ma insieme al direttore del torneo Luca del Federico siamo riusciti a portarlo qui a Francavilla e siamo contenti di questo. A Francavilla arriveranno tantissimi atleti da tutto il mondo? Sì, da ogni parte del mondo. Le iscrizioni sono illimitate, quindi saranno iscritti anche 350 giocatori. È chiaro che di questi solamente 64 parteciperanno a questo torneo, i primi della classifica.